Presentazione del programma del Movimento 5 Stelle per Mazzara e di un sito online. Quali sono intanto i punti più importanti del programma? I punti più importanti del programma sono sicuramente organizzare la città affinché sia Florida prospera di lavoro e per fare questa cosa dobbiamo assolutamente stimolare i polmoni portanti alla città e mi riferisco alla pesca, mi riferisco all'agricoltura, mi riferisco al turismo. Noi siamo una città a vocazione turistica che ha già fatto piccoli passi ma poche decine di migliaia di turisti in città non fanno la differenza. Organizzeremo la città affinché la città diventi un posto bello da vivere, un posto bello da visitare, un'esperienza importante sia culturale ma che faccia da volano all'economia mazzarese per tutti i nostri giovani. Ci impegneremo nei collegamenti marittimi, nei collegamenti aerei, ci impegneremo nella mobilità cittadina, ci impegneremo soprattutto nel trovare nuove risorse collaborando fattivamente con tutti i livelli istituzionali, con la Regione, con la Camera, col Senato, col Governo nazionale ma anche col Parlamento europeo e soprattutto ci impegneremo anche nei rapporti che non sono mai stati utili per la città in maniera preponderante, visibile e importante. Mi riferisco al rapporto fra le istituzioni, il Comune, la SNAM e l'ENI. Lì faremo un discorso molto molto importante, molto molto trasparente perché questa città dopo decenni deve cominciare a pensare anche a questo. e onestamente con le mani libere, con la mente serena e con un progetto importante come il nostro avrò sicuramente, se voi, se i cittadini lo vorranno, la grande forza di potermi approcciare a chiunque e quindi anche a questi colossi difendendo la città e rendendo proficuo questo rapporto per tutti i cittadini. Quindi da questo punto di vista massimo impegno, massimo impegno in ogni ambito e in ogni settore. Il programma che si potrà trovare sul vostro sito online? Il programma sarà sul nostro sito online, il sito è nicolagrutta.it, è stato messo online questa mattina, però già abbiamo 10.000 pieghevoli che saranno distribuiti in città perché ogni cittadino deve sapere che ci stiamo prendendo una grande responsabilità, una grande responsabilità con un grande progetto nel quale tutti i cittadini devono riconoscersi, tutti i cittadini possono e dovranno impegnarsi perché è la costruzione di un percorso che detterà con lungimiranza le condizioni che proietteranno la città affinché le generazioni future, i nostri figli, i nostri nipoti trovino una terra, un territorio ben organizzato, florido, prospero nel quale potranno scegliere di rimanere. Non come è successo a molti della mia generazione, non come sta succedendo anche a persone molto più anziane nelle quali con la pensione stanno decidendo di andare via da Mazzara, Mazzara non è più purtroppo neanche una città per anziani, questo cliché sta finendo pure, dobbiamo invertire la rotta, creare le condizioni affinché questa terra, questo territorio che ci è stato prestato dalle generazioni future, a loro e ai ragazzi, ai nostri figli, lo dovremo restituire con condizioni di vita, di cultura, di economia importanti. Noi siamo qui per fare questo, ci metteremo anima, cuore, dedizione e tenacia con la coerenza che abbiamo dimostrato in questi sette anni e più e che continueremo a dimostrare, quindi dateci fiducia perché abbiamo veramente tante cose da realizzare in città.